Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast Però io non sono uno che guarda tanto, non so come spiegare Ok, ascolti di più, cioè che fai, in che senso? Vivo Cioè io guarda, cioè informazioni che escono dal telefono Quelle possono essere TikTok, scrollare, guardare video su YouTube, ok? A meno che non siano cose informative che io so quel giorno mi devo informare su quella cosa È un po' difficile che guardo, che devo dirti Cioè mi deve proprio capitare di vedere un'intervista di One More Time una volta al mese Per esempio tu questa cosa non la diresti di un ragazzo di 19 anni che comunque vive di social, no? No, no, ma io infatti sono la persona più sbagliata Cioè nel senso, io sono un po' paracosto su molti punti di vista Però mi sono reso conto, ho visto un'intervista di Andrew Tate Sì Prima di iniziare a fare social Che parlava della dipendenza sul telefono E di come renderla a favore tuo, ok? Che succede? Se tu sei dipendente dal telefono, quindi ci stai tantissime ore Ma tutte le ore che ci stai produci È perfetto Quindi io ho cercato di applicare per quanto possibile questa cosa Aggiungendoci però un fattore fondamentale, quello di vivere il più possibile Quindi di starci il meno possibile Quindi alla fine non è neanche una dipendenza Conosci Gary Vee, no? Gary Vaynerchuk Lui dice, è forse il primo podcast che io abbia mai ascoltato Il mondo a cui mi sono approcciato E grazie forse a Gary Vaynerchuk Che è il proprietario di Vayner Media Che è penso una delle aziende più importanti in America Per quanto riguarda social media, talent, web agency, eccetera Lui dice che questo non dovremmo più chiamarlo telefono cellulare Questo dovremmo chiamare telecomando Perché tu con questo puoi fare tutto nella tua vita Cioè questo è proprio un telecomando per la tua vita Certo Ci crei, ci guadagni uno Se fosse in grado potrebbe stare seduto tutto il giorno Su una sedia davanti, non lo so, a un film O quello che più piace Per sempre, con questo in mano E fare tutto Guadagnare, vivere Certo, non lo farei Perché vivere forse è meglio Questo per me non è vivere Perché servono degli input nella vita Secondo me, capito quello di tutti Cioè secondo me è fondamentale uscire magari Fare momenti di stop, fare digital detox Anche personali nel piccolo Cioè per me è molto difficile Perché comunque non sono grande Oggettivamente Cioè non ho la testa di una persona di 30 anni Nel 19 Però nel mio piccolo ti dico che Ogni volta che mi autoresponsabilizzo E faccio del piccolo detox Mi do delle regole Mi dico non aprire il telefono Nelle prime due ore della giornata Questo funziona Cioè sto meglio Ne parlavamo prima perché vedi per esempio Quello che ti ho detto Io sono del 95 Ho 28 anni Tu ne hai 19 Abbiamo comunque 9 anni di differenza E nonostante sembri poco Sembra che tu Adesso in questo momento Stai parlando con tuo nonno Con tuo zio E ci abbiamo solo 9 anni di differenza Non è vero Però questo Cioè questo Lo sto notando Con sempre più ragazzi della tua età Molti ragazzi che sono anche passati qui al podcast Ho notato che La vostra generazione Parlo ora come nonno veramente Sembra quasi più Acculturata E cosciente Coscienziosa Dell'utilizzo Da fare Sano dei social Cioè tu questa cosa che mi hai detto Del Social detox Cioè che È una cosa che per esempio Io e MDS Non abbiamo forse mai sentito Conosciamo Cioè io lo so Perché mi informo Podcast America Cioè voi lo dite per scontato Che non dovete stare tutto il giorno al telefono Noi lo diamo per scontato Però ecco tu dai un termine Esiste un termine Perché è una problematica Ovvero la passività sui social E l'azzeccamento compulsivo Che c'hai sul telefono Certo Tu già lo conosci Sai che bisogna non farlo Ma perché la differenza che tu dici Di anni Che sembrano pochi Ma in realtà sono tantissimi In modo figurativo No? In realtà si sente Perché comunque magari anche A distanza di 3-4 anni Un ragazzo magari del 2000 Quando è arrivato l'iPhone 13 Cioè il primo iPhone Il 3 Proprio l'iPhone Sì Più o meno 2007 se non sbaglio Un ragazzo del 2000 Magari Non lo so L'ha preso Era meno normale Prendere le medie L'ha preso tipo in prima liceo Io magari A 7 anni Ho già l'iPad in mano Capito? Certo esatto Ci sei nato Se ci pensi È tutta l'evoluzione dei telefoni Cioè capito? Sì Della tecnologia È tutta l'evoluzione degli smartphone Sì Se sei nato nel 2000 Magari hai già Meno responsabilizzazione Di un 2004 Rispetto a che di un 2006 Come ad oggi 2010 Hanno già il telefono Anche se hanno 13 anni Il 2015 Magari ha 7 anni Già il telefono Capito? Cioè più si va avanti Più questa cosa ci sarà Secondo me Ti torna Sì perché Si cresce di più Nella tecnologia Bravissimo Adesso i ragazzi I bambini di 2 anni Hanno l'iPad in mano da soli Tra 5 anni C'hanno il visore Con la realtà aumentata Escono dalla pancia Col visore Capito? Sì Sì È brutto però Mamma mia No comunque Questa cosa Dell'essere Del vivere la vita Essere real E magari utilizzare TikTok Youtube Come Non lo so Per te È una vetrina Non è una vetrina Adesso Questo non l'ho capito Se ci fai solo business In pochissime parole Vai Io penso aver capito Proprio male la mia quadra Io voglio vivere di arte Ok Perché non vuol dire Che non voglio impegnarmi E voglio fare l'artista a caso Io voglio vivere di arte Mi piacerebbe fare impresa Nella vita È uno dei miei goal Ok E Il discorso è che Per vivere di arte Ho bisogno di raccontarmi Cioè per me Chi non crea contenuti Chi non produce cose È finito Cioè è proprio una cosa mia Tra l'altro mi sa che Non vorrei Prendermi questa frase Come mia Ma mi sa che l'ho visto In un TED TED talk Forse era Emma Alloru Ok Grandissimo Forse il miglior content creator Che c'è in Italia Però per me questa cosa È molto importante Ok Cioè Io da quando produco contenuti Sto bene Bello Perché Non ho mai avuto un diario Magari sono una persona Che si apre poco Io con i miei migliori amici Ci faccio esperienze Ma non mi apro per loro Cioè non gli dico Guarda c'è la ragazza Mi ha lasciato Cioè io sempre tutto dentro Ok Da quando Ho i social E comunque io ho un profilo Molto particolare E non in senso Per forza positivo Però ho un profilo Molto particolare Comunque Faccio video improbabili Parlo di emozioni Ho una lista di 100 cose Da fare prima di morire Che è la mia serie principale In cui quando Mi gira di fare qualcosa Ok Che rientra nelle cose Da fare prima di morire Lo faccio E lo raccomando Ho visto visto 100 cose da fare prima di morire Espresso Podcast No però Io ho capito Cioè questo dicevo Nel senso Si vede anche Da vibe makers E dai video che fai Che il tuo voler vivere Cioè è quello Che ti interessa Per concludere il discorso Io non potrei fare altrimenti Cioè una persona magari risponderebbe Faccio questo per passione Faccio questo per quello Io non potrei fare altrimenti Cioè io non potrei vivere Senza produrre contenuti Senza fare arte Senza Perché è il mio flusso Di coscienza Cioè capito Diciamo che così fai Anche tu personal branding È la cosa che non mi fa sentire sbagliato Fare cose Capito Che vuol dirti Fare Vivere Raccontarlo Sentirsi attivo Dare un esempio Quando posso Ok E tra l'altro io Nasco come Profondo narcisista E profondo arrogante E non ho problemi a dirlo Bello I social mi stanno dando Una mano incredibile A calmarmi A ridimensionarmi A rapportarmi In modo diverso Perché appunto Li uso in un modo Abbastanza non convenzionale E questa cosa Fa veramente tanto Per me capito Quindi L'unico Cioè l'unico consiglio Che mi viene da dare A chiunque magari mi seguo Chiunque Mi prendo un minimo Come lo seguo Dagli È Creare contenuti Anche se non li posti Creare contenuti Come un diario Fare Fai una pasta Raccontalo In modo divertente In chiave ironica In chiave Di Raccontare In chiave di Interesse Cioè Per spiegare qualcosa Cioè qualsiasi cosa Diciamo che prima si scriveva Prima si dipingeva Si disegnava Facevi musica Adesso Con Con le nuove generazioni Si creano contenuti Si creano contenuti Video Per me lo Storytelling È storytelling Quello che fa È storytelling Certo Non dovrebbe esistere La parola tiktoker Capito Storyteller In generale Ognuno dovrebbe avere Una minima di classificazione Ovvero È brutto dare etichette Però è anche brutto Magari una persona che Sono anni che magari Cerca di raccontare la sua vita Di fare appunto Storytelling Belli esempi Belli messaggi Sentire il nome tiktoker Capito Questa è una cosa Comunque mi confronto Tutti i giorni Qua a Napoli Si abusa Come Si abusa molto La parola tiktoker Che poi A volte mi sento Pure in difetto A dire content creator Non saprei Cosa In cosa Identificare te O una figura Come te Ecco Io per lavoro Faccio Il videomaker Mettiamola così Però io non mi identificherei Nemmeno come quello Perché alla fine Non faccio solo quello Quindi che cosa sei Fotografo Content creator Regista Ecco Hai detto bene Le etichette Non fanno bene Però che aiutano Un pochino a capire Il range in cui ti stai trovando Certo Un pochino ti serve Ma tu mi dicevi Vabbè Musica Tu vorresti vivere di musica Ah io voglio vivere di arte Quindi anche se E a me piace fare musica Lo sto iniziando a raccontare un po' E' stato un periodo un po' particolare Della mia vita Perché Appunto ho finito di fare Il podcast Testosterone A dicembre Completamente smesso Sono tornato a vivere a Firenze Quindi ho Mi sono ridimensionato Dopo un anno Un anno e mezzo Che ero praticamente sempre Tra Milano Como Fuori Viaggi Vivevi Esatto Sono tornato un po' a Firenze Sono tornato a stare Un come a madre qualche mese Per Tra virgolette Prendere l'aria in corso Ok Perché il mio obiettivo È stare a Milano Milano la amo Come città Mi dà un sacco di input E muovermi sempre Che succede Torno indietro E mi rendo conto di quanto Col tempo libero che avevo di più Fare musica mi fa stare ancora meglio Cioè è da sempre che faccio musica Però L'ho pensato proprio come una cosa A 360 gradi Perché Perché Fai palestra immagino Sì Ok Sì Cosa è per te Cioè nel senso Una valvola di sfogo È una cosa importante Ne parlavo proprio prima Assurdo Per me è più una cosa mentale Che fisica Perfetto Per me la palestra è la stessa cosa Nel senso Non ho mai fatto palestra ad altri livelli Però mi allenavo tanto Che fosse palestra Fugilato andare a correre Io una volta Al giorno sudavo Mettiamola così Ok E quel sudare Mi faceva iniziare la giornata bene All'inizio gennaio Ho avuto un problema Alla schiena molto grave Ok E quindi Ho dovuto smettere di fare questa cosa Mi svegliavo E non avevo quell'input Quando tu hai L'abitudine di svegliarti E fare qualcosa Che ti dà la carica E non la fai più da niente A 19 anni Capito Ti pesa tantissimo Iniziare a riscrivere Perché io scrivo da sempre Però iniziare a scrivere tanto Mi ha Cioè è stata la cosa Che ha compensato Nella bilancia Del mio equilibrio E quindi sì Cioè se ti rispondo questo Sì Mi piacerebbe vivere di musica Però non mi piacerebbe nemmeno Avere solo l'etichetta Di dire fai musica Cioè voglio essere un artista A 360 gradi Cioè se inizio a fare musica E va bene Tra due anni Mi gira il cazzo di dipingere Cosa ne pensi del fatto Che adesso Eh no lo so Nel senso Vuoi fare questo Vuoi fare l'artista Io voglio vivere È proprio il mio motto Vivere d'arte Fai vedere Che sta scritto Vibe Ah vibe maker Ok Cioè io A 12 anni dicevo Pensa a vivere delle mie vibes Pensa a vivere di Vibrazioni Di emozioni Sogni Cose Poi è una cosa un po' astratta Ovviamente Devi impegnare Devi mettere Tu identifichi questo termine In quello Il mio slogan Macro area Artista Sì per me Cioè se io So che è molto strana Come cosa È molto astratta Poi nel 2024 Per quanto diciamo Che ci stiamo evolvendo Siamo ancora pieni di etichette Tutti quanti Come ti dicevo prima Però per me è fondamentale Arrivare a un punto In cui quando qualcuno Mi chiede cosa fai nella vita Io rispondo Il vibe maker Figo Pensavo Come Eliminare da mezzo Tutto ciò Col personal branding Dicendo Tu che fai Tu chi sei Io sono Tommaso Mallorca Oppure quando ti chiedono Cosa fai nella vita Io vivo Io sono Il mood è quello Diciamo che questa cosa di auto Spiegarsi sempre Dover Presentarsi A me metto un po' a disagio Quelle cose Il fatto che ogni volta Che magari parlo con qualcuno O devo fare bella impressione O qualsiasi cosa Non basta Quella chiacchiera Come magari stiamo facendo noi Che infatti è bello Ma bisogna Che si è perso Cosa Si è perso un po' Si è perso come cosa Prima Incontrare qualcuno al bar Potevi fare L'imbianchino Come l'imprenditore Di successo Ci parlavi così Ci parlavi nello stesso modo Con un bel caffè Nonostante siamo Nell'epoca Delle parità Delle riacquisizioni Di potere Ho capito che intendi Tutto sullo stesso livello In realtà siamo nel dislivello Più totale Cioè per me Lo facciamo solo a chiacchiere È il momento più confusionario Al punto di vista storico Secondo me Per quello che ho letto Per quello Sicuramente non avendolo vissuto Non posso saperlo Però secondo me c'è una confusione Adesso In generale Nella nostra generazione Questo è per i social Secondo me Al cento per cento Perché Qua a Napoli diciamo Troppi galli a cantare Non fa mai mattina Giusto? Nuschiera Nuschiera mezzo euro Come si dice ragazzi? Eh io sono un falso napoletano Come Nuschiera mezzo euro Esatto Esatto Troppi galli a cantare Non fa mai mattina Non arriva mai la mattina Nel senso che Tramite Instagram TikTok Nel senso Tutti abbiamo voce in capitolo Che è la cosa bella Forse dei social Però ecco Nessuno poi si fa un'idea chiara Insomma Per completare la frase Se posso Nessuno si rende conto Che avere quella piccola voce in capitolo Qualora si viene data la possibilità Di andare virale La fortuna di andare virale È una responsabilità E fa la differenza Ed è importantissimo Sapete? Prima che quello è molto importante Qual è la tua voce? La mia voce? Che cosa racconta la tua voce? La mia voce racconta Che qualsiasi età E qualsiasi cosa fai Qualsiasi persona sei Da qualsiasi posto provieni Devi fare quello che ti piace Non puoi essere schiavo Di un sistema Nel senso Non si parla di Anarchie massimo sistemico Cioè Nel senso È importante andare a scuola È importante fare i percorsi È importante formarsi Però devi fare quello che ti piace Cioè lo devi fare nell'ottica Devi fare quello che ti piace E siccome Non te lo insegnano abbastanza Io siccome Ho capito molte poche cose Nella mia vita Perché sono una persona più indecisa E confusione del mondo Però questa cosa l'ho capita Al cento per cento Che devo fare quello che mi piace Cerco di trasmetterlo Questa è la mia voce A me il podcast piace tantissimo Perché Ecco Non ti conoscevo Ti ho qui Stiamo chiacchierando Però non avrei mai pensato Che mi avresti detto Il modo In cui io vivo Io vivo così Da sempre Cioè io Pure quando avevo la tua età Dicevo Ok Tutto bellissimo Però io voglio vivere E voglio fare quello che mi piace Voglio vivere di ciò che mi piace Perché la vita è una Non la voglio buttare Non sappiamo cosa c'è dopo Quindi Che sia tutto E E adesso Ora O addirittura Forse è ancora meglio Perché In realtà il sacrificio ci sta È importante ogni tanto fare Alche cose Sempre In ogni cosa Certo Oddio scusami No puoi fare quello che vuoi Se devi rispondere No no Era una sveglia Scusa Il sacrificio Capsola Sveglia Alle undici e mezza Io voglio sapere Per cose la sveglia Alle undici Dopo la leggo E te lo dico Probabilmente sarà tipo O bere o meditare Una di queste stronzate Io mi metto sveglia per tutto Sono un po' strano Infatti Suonano ogni due secondi I miei amici mi odiano tutti Ok Che cosa stavamo dicendo Il vivere secondo Le tue passioni Ah sì È importante Però secondo me È anche importante Il sacrificio Quindi Secondo me È fondamentale dire Che La cosa più importante È vivere È se magari Guadagnare tanto Ma avere qualcuno Con cui condividerlo È ancora più importante Molto bello Ancora più importante per me Cioè per me Personalmente Sì 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 Poi ogni persona Si sente a modo suo C'è chi si sente Solo nella società Solo contro tutti Io mi sento Spesso solo contro tutti Però Sento che Condividere con i miei amici Ok Sicuramente io ho uno dei miei migliori amici Che viene a casa mia tutti i giorni Fa tutt'altro Fa il geometro nella vita Non gliene frega niente dei social Nient'altro Però viene lì e sta accanto a me la sera Mentre lavoro Mentre faccio chiamate È già solo quello Mi fa stare bene Cioè io in una visione di Insieme Di Fare qualcosa nella vita Non vedo Cifre Vedo persone Ok Non vedo 5 milioni 10 milioni 15 milioni Vedo Amico X Che lavora con me Amico X Che ha la villa accanto a me Amico X Che fa un figlio Io vado Lo aiuto Per me questo è il mio metro di misura Queste sono le tue vibes Sì perché Cioè siamo animali sociali Punto Certo Siamo animali sociali Proprio Antropologia base Noi viviamo per le persone E chi non lo ammette E chi si sente forte Senza La presenza di altre persone Secondo me è debole È pura debolezza Cioè tu devi Siamo bene la vita Per Capito Adesso 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 di un minimo di credibilità Con te stesso Con La tua coscienza Per prendere contatto Con la tua coscienza Devi ammettere che Senza le persone Che ti stanno intorno Sei finito Qual è la cosa Peggiore che ti possano fare In una situazione di difficoltà Come il carcere Come il carcere? È isolarti ancora di più E metterti da solo In una stanza Tu da solo In isolamento Hai fatto un esempio bellissimo Infatti Quello è Quindi sì Siamo animali sociali Cioè non sei in carcere Magari Tutte le persone che hai intorno Magari non le vuoi manco vedere Però quando sei senza di loro Stai ancora peggio Capito Quindi Questa cosa Bellissima Mi piace che Quando ho iniziato a vedere i tuoi video Ho pensato Sembra quasi un David Dobrik Italiano 2.0 Lo sai che io non ho mai visto Un suo video Ma ogni volta che parlo Magari con ragazzi È geniale Tutti mi dicono sempre Devi fare quello David è un genio Cioè lui ha rivoluzionato Il mondo dei vlog In America Come è concepito nel mondo Che poi quando dico in America Io parlo di mondo Perché quello che viene fatto lì Pari pari ce lo mangiamo E ce lo riportiamo In tutto il resto del pianeta Assolutamente E comunque si Ha rivoluzionato tutto Un po' quello stile lì A te è ancora più real Perciò è particolare Perché tu non punti Sul fare Sai Il video Super esagerato Qualitativamente Tu filmi col telefono E vai avanti così Per la tua giornata Metti le chicche Le cazzate Che fate Gli sketch È una via di mezzo Cioè nel senso È una specie di vlog Però Alcuni video sono Puramente di intrattenimento Magari vi preparate qualcosa Alcuni invece La dopo altro Nella mia giornata In realtà su questo canale Che vedi Raramente avevo preparato cose Nel senso Ho fatto qualche video Ha avuto un po' Una migrazione In questo canale Inizialmente Avevamo un format Che era tipo Una notte da leoni Eh sì Che si chiamava Una notte da coglioni Ok E questo era il format Comunque avevo iniziato Un po' in chiave anche Del podcast Che stavamo facendo Poi ho deciso Di iniziare a pulire un po' Iniziare a fare un pochino Più di cose Mini personali E qualcosa di impostato C'è stato Tipo qualche Qualche esperimento sociale Qualche cosa su me stesso Ho fatto quel video con Jenny Che è il mio video preferito Non so se conosci Jenny Serp Sì a me quella ragazza Mi fa impazzire Secondo me è una storia incredibile No Jenny è incredibile Mi piace molto Sei molto amico suo Credo per capito Tanto amici no Perché vabbè Tanti amici Cioè perché Sono tanto stretti Non ho pochi Però gli voglio un sacco bene È una bellissima persona È stata a casa mia a Firenze L'ho vista un sacco di volte È brava Cioè Jenny è proprio brava E niente Ho fatto questo esperimento sociale In cui Per 24 ore di fila Ho provato a non sentire In senso Mi sono messo i tappi Delle orecchie Letteralmente Ho visto Un genio Ho detto Proviamo a fare questa cosa Inizialmente l'ho titubante Perché avevo paura Che magari Si potesse travisare il messaggio La community Sordomuta Magari potesse appunto Travisare il messaggio Io non avevo assolutamente Intenzione di fare Audience hype Su questa cosa Ma mi sembrava Un bellissimo contenuto Non sembri il tipo Per sensibilizzare Capito E infatti poi Vabbè Hanno fatto un articolo Web Così La frase che mi è venuta in mente Bellissima Che È importante su me dirla È che tutti nella vita Meritano Almeno una volta Di essere capiti Capito E tu ti sei messo Nei suoi panni Sì E per me Jenny È una bella persona Proprio il fatto Che magari spesso Molte persone Non la capiscono Cioè comunque Anche se con ironia Anche la community Di Twitch Non so fare nomi Perché Non ce l'ho con nessuno Io sono proprio una persona Che ama tutti Parlo con tutti Non facciamolo Voglio bene a tutti Però secondo me Anche se in chiave ironica Anche quando c'è stata L'esplosione di Trez Molte persone L'hanno presa di mira Era ironia pura Poi lei è una ragazza Che è stra sveglia Quindi è stra ironica Anche lei Cioè ti sa rispondere Non si abbatte Però secondo me Lei non ci stava bene Stavo tentando Il fascino di queste persone Delle persone che Sono nate con difficoltà È proprio questo Che poi quando crescono Le vedi Corazza Eh però le vedi in alto Le vedi che stanno bene Fanno Hanno le loro soddisfazioni Si portano avanti nel mondo Hanno successo Questa è la cosa Poi più affascinante Che tu pensi Cazzo io sono nato In una situazione agiata Ho 28 anni Faccio quello che mi piace Non dovrei mai lamentarmi In vita mia Io mi sento fortuna Per la mia condizione Eppure ci lamentiamo sempre Persone invece come Jenny Ecco magari Sono nate con una difficoltà Chissà Non ho mai sentito lamentarsi Almeno Il culo che si fa quotidianamente Per andare avanti Eppure Sì Secondo me Proprio al 100% Quindi sì Questo Ma tu sei molto superstizioso Vedo una croce Un cornetto No Questo l'ho preso a Napoli Ieri Il cornetto Due euro Ok no Questa è la croce No la croce Ah ok Il cornetto invece Me l'ha regalato mia nonna Ma mai Avete detto Il cornetto E' più napoletano della croce Eh ma mia nonna Non è di Firenze Mia nonna sta qua Sta al Circeo A San Felice Cioè Meno di un'ora di macchina A Napoli Dopo ci facciamo una chiacchierata Io sono di Terracino Cioè la mia famiglia di Terracino Ok Io sono 28 anni Che vivo tra Circeo e Napoli Perfetto E dopo parliamo E dopo parliamo Ma alla fine Siamo apparenti Io e te Alla fine Tua zia In realtà È mia mamma Sicuramente Sì 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 È molto probabile Sicuramente Il mondo funziona così Zero superstizioso Zero superstizioso Non sei superstizioso La mia famiglia molto No mio papà Mia mamma è molto superstiziosa Mia nonna è molto superstiziosa Me l'ha regalata Vabbè sono simboli Che per te È un valore affettivo Significano la persona Non tanto il Esatto Cioè non me lo sono mai tolto Quando mia nonna me l'ha regalata Ok I napoletani solitamente Io generalizzo tantissimo Questo vizio Me lo devo levare Però in percentuale Noi siamo La maggior parte Napoletani è molto superstiziosa Certo Per esempio qua abbiamo Un famosissimo mago Lui crede nelle magie Harry Potter Tutte quelle cose così Non hai idea Lui gira con il sale Nel portafoglio Tutte queste belle cose qua Sono cose a cui io non credo Io vado contro queste cose Io la sfido alla sorte Non lo so Perché dipende da me Capito? Eh no certo Dipende tutto da me Il mio motto Nel lavoro in generale È che è sempre colpa mia Fine Cioè non c'è Non ci sono altre cose da dire Cioè il resto è vivere Ci vogliamo tutti bene Però è importante dire È sempre colpa mia Cioè succede qualcosa Per un socio Che magari non ha fatto Una cosa È colpa mia Capito? Entendo? Cioè per me anche se Uno ha una società Al Cioè è il 20% Di una società E l'altro L'80% è colpa tua Cioè puoi sempre dare Un input in più Non so come dire Quando sei positivo Nella vita Che E ti senti fortunato Perché io mi sento Fortunato oggettivamente Capito? Non ho avuto situazioni agiate Niente Zero Non ho avuto Particolari opportunità Però mi ha fatto Sempre fatta il culo Non mi ha fatto mancare Particolarmente cose Mi ha dato Una bella impostazione Un bel valore per i soldi Mi è bastato Mi ha dato dei bei valori Basta Capito che intendo Cerchiamo di vedere Capiamo la persona Che abbiamo di fronte Anche Da Nel nostro secolo Da quello che carica Da quello che fa Da quello che Che mostra sui social Poi io sono stra aperto Quindi Dai social puoi Tranquillamente capirlo No Perciò Dicevo Ho visto Ho visto Che praticamente Tu hai caricato Tanti video Interessanti Su tiktok Sai le cose Che fai quotidianamente I tuoi viaggi Le tue cento cose Da fare prima di morire E poi hai messo così Un po' All'improvviso Tra virgolette L'ultimo contenuto Che hai caricato Ad oggi Che registriamo l'episodio Sei tu che canti Ok? Chitarra e voce E per sfizio Sono andato a leggermi I commenti E La maggior parte Dei commenti sono Ecco qua L'ennesimo cantante Un altro che canta Ha pure tu a cantare Sai tutti un po' così Allora Tutto secondo i piani Tutto perfetto No Ok Ok Perché Perché Se ho visto Ho avuto quei commenti Avrei detto Che palle Non è successo Quello che pensavo Cioè tu volevi questa Non è che lo volevo Non è che lo volevo Perché alla fine Tutti speriamo un po' Che le persone si svegliano Ok Però non lo puoi pretendere E sarebbe stato strano Se non fosse successo Perché vogliono tutti cantare? Ma non vogliono tutti Cioè Nel mondo social Ci sono più di mille Influencer All'argi in Italia Che sono considerate influencer E che lavorano magari Con i brani Cioè Sono ovviamente tanti E le persone che cantano Saranno 4 o 5 Quindi mi sembra Un'esagerazione incredibile È proprio un'esagerazione Per Dover sminuire le cose Ok Perché Cosa fa? Io sono pubblico medio Spiegami Ok Perciò ti ho fatto il commento ignorante Perché vuoi cantare? Non mi ricordo chi me l'ha detto Non mi ricordo dove l'ho visto Ma di recentissimo ho visto Questa cosa Cioè Questo proprio Input che mi è stato dato Forse un ragazzo Che fa video su TikTok Molto bravo Che parla anche di musica Non mi ricordo il nome Se dopo mi viene in mente Lo citiamo Assolutamente Stravolentieri Che succede? Da quando siamo piccoli Sono abituati a mettere le forme Nei Capito? Nei posti adatti Sì I regoli Le cose Cioè La forma Il quadrato Sì quel gioco Che devi mettere il quadrato La stella Nella forma Nella stella Ecco secondo me Quel gioco va abolito Cioè è proprio un problema Della società fondamentale Perché da quel gioco in poi Non smettiamo di dare etichette Non smettiamo di inserire le cose Dove devono stare Quando non ci rendiamo conto Di quanta confusione ci sia Cioè il discorso è sempre quello Per me ad oggi Ad oggi dobbiamo Parlare di massimi sistemi Il cerchio può andare nel quadrato Questo vuoi dire Parlare di massimi sistemi Nella creatività Ad oggi È parlare di quanto Non devono più esserci Delle forme E delle formine Soprattutto Cioè nel senso La cosa dove inserirlo E quello che si inserisce Non deve più esistere Il cerchio nel quadrato La stella nel rettangolo Ma anche perché Dire che gli influencer Fanno musica È una follia Perché se tu ci pensi L'ultima dieci anni Di generazione di cantanti Sono influencer Cioè nel senso Justin Bieber È nato su YouTube Fedez È nato su YouTube Oddio Fedez si faceva Il culo A fare le rap Battle Ma sì Ma sicuramente Ci sono Ognuno ha la sua storia Io voglio buttarmi In questo punto della musica Mi piacerebbe tanto E come va va Però io i commenti Me li aspetto Cioè È normale che le persone Dicano È l'ennesimo Che vuole fare il cantante Spero che Sarebbe bello pensare Tommaso Maiorca Vuole Cantare Vuole esprimersi Anche attraverso la musica Sì ma Cioè Non capisco cosa ci sia di male Proprio come cosa È una cosa che non riesco A comprendere Però Do per scontato Che ci siano Quel tipo di commenti Perché Sarebbe assurdo Se non ci fossero Capito che intendo Frustrazione Dici eh La frustrazione Di chi invece Abbiamo Nella propria forma Di non appartenenza E porta A avere Vibes negative No no Certo No ma che Dietro a un commento Negativo Ci sta una forma Di frustrazione Penso sia Non matematica Lo ripeto sempre al podcast Quante volte Tu Prendo te Come esempio Di persona di successo Ok Non sto dicendo che lo sei Non sto dicendo che tu Pensi che lo sia Certo Persona di successo X Quante volte magari la Vedi scrivere Nei commenti Youtube Instagram TikTok Qualcosa di negativo E' difficile Che vedo Drock Scrivere Mamma mia Fai cagare Non sai Fare il wrestler Certo Diciamo è una cosa Che uno non ci pensa Se una persona Ecco Ha delle good vibes Difficilmente si mette A commentare negativamente Ma poi è anche una cosa Secondo me A prescindere dal successo Vabbè Quell'educazione Certo In realtà Se tu noti Gli scandali che succedono Comunque esegui un minimo Quello che è il mondo Di social Il mondo Dell'intrattenimento Succede che invece Spesso persone che All'occhio All'occhio Siano particolarmente Di successo Spesso hanno anche Delle reazioni esagerate Magari per i commenti Che ricevono Ok Siccome se Cioè A prescindere dal successo Che fai Dalla fama che hai Dai I numeri che hai Sei di successo Nel momento in cui Sai che Quello che fai tu Qualsiasi commento faranno Stai bene Quindi io ad oggi Non sono di successo Perché Ancora ci rimango male Capito Quale Creator O comunque Quale influencer Perché a questo serve La parola influencer Ok Ti ha Ispirato O è da Da sempre Che hai detto Così Deve andare così Sembra Strano come cosa Ma Io ho veramente Zero ispirazioni Nel senso che Guardo Però Se c'è una persona Che mi ha ispirato Da un punto di vista Di intrattenimento Invece Che non si tratta Di fare contenuti Ma si tratta Proprio di vivere Ok In un certo modo E quindi Poi di conseguenza Rigettare Quello In quello che sono I social Quindi lo specchio Perché io lo uso come specchio Ok Non è una cosa costruita È Luis Cioè a me Luis Mi ha dato tantissimo Perché Non te lo so manco spiegare Cioè lui è proprio Una persona che sono A 360 gradi Si è posta davanti Al mondo dei social Davanti alla telecamera In un modo Troppo più innovativo Degli altri Cioè per me Lui Avrebbe dovuto Grindare Sul fare video in inglese E E diventare Il primo youtuber Cioè lui per me A livello di potenziale Poteva essere Il primo youtuber Se lui avesse Grindato sui video in inglese Ironia troppo innovativa Montaggi della madonna Innovativi E tutto ciò che è nuovo Vince Si sa In qualsiasi ambito Diciamo che Lui mi ha spiegato Da un punto di vista Di percorso C'è bisogno Sì C'è bisogno Di un linguaggio particolare Io viaggio Lui fa ridi Cioè capito Magari stanno anche similissimi In la vita reale Non ci ho mai parlato Non lo so Però dal punto di vista Non lo diresti mai Perché comunque I miei contenuti Sono abbastanza diversi Da quelli che sono Quelli di Luis Capito Sono proprio ambiti diversi Poi magari ci può essere Un po' di ironia A volte me lo scrivono Sotto i video E Simile Qualche concatenzione Però lui Mi ha proprio ispirato Come persona Cioè Mi ha dato un botto Lo giuro Semplice Qual è Qual è la storia Figa che mi puoi raccontare Perché prima ti dicevo A me piacciono le storie Mi piace ascoltare Ecco Momenti di vita Vissuti Particolari Che tu ritieni interessanti Perché ho visto che Veramente hai fatto Tante cose Come ti dicevo Sei il tipo Che si mette Lo zaino in spalla Prende un autobus A un euro E va Nello Zimbabwe Ok Con gli amici Che Se posso dire Se posso dire Una piccola parentesi Se solo avessi avuto La pazienza Di non fare tutte queste cose In modo frenetico Ma facessi le cose più Una cosa alla volta Anche Cioè quanto te le sei godute Tutte ste cose No allora Perché No no Allora Conduta al 100% Ok Più del 100% Perché sembra effettivamente Vabbè però dai video Sembra tutto molto frenetico Sì ma nel momento in cui io inizio Stacco Ok Cioè io appena mi metto Un'ora prima E ho passato una delle vacanze Per la mia vita Senza aspettarmelo Sono tre giorni Che ogni cosa succede Fa ridere Cioè ci stiamo divertendo Da morire Ok Te lo stai godendo tanto Questo è il mio Modus operandi Cioè nella mia vita Io appena decido Adesso vivo Io vivo Fine Quando poi vado a danizzare la cosa A mente Razionale Che sono in camera mia Che sto ordinando le mie task Ok E dico Minchia Se facessi una cosa alla volta Con calma Sarei già magari più avanti Quindi questo non è un pensiero Cioè il telefono che dici Devo fare il contenuto Non diventa un pensiero No zero Una conseguenza È una conseguenza Voglio fare questa cosa Ovviamente Filmo Un minimo responsabilizzare per dire Sto facendo questo e questo Mi filmo Certo Ok Perché comunque vivi di questo Certo Certo Però Non è mai una cosa forzata Ok E ovviamente Siccome Ti ripeto che ho 19 anni Non 30 Non sono un imprenditore di successo Non sono niente Sono un ragazzo Che ama vivere E ama ciò che fa Però Spesso Per questo motivo Ho perso il controllo Hai perso il controllo In molti momenti Non sono mai andato in burnout Cioè ho sempre mantenuto abbastanza Le rating della mia vita Però in alcuni momenti Sentivo che facevo le cose In modo forzato Allora i contenuti E appena mi rendevo conto Che non stavo facendo una cosa Per chi mi piaceva farla Ma era qualcosa di forzato Smettevo di fare video Cioè una settimana Due settimane Cioè sono stra incostante E mi sicuro che tu hai avuto Un problema polmonare Si è stato male Si io sono stato Io ho l'asma E sono stato abbastanza male Nell'ultimo periodo Perché c'è questa C'è un'influenza Che gira pesante E io l'ho presa tutta Ma l'ho presa tutta in faccia Per due tesi e mezzo di fila Quindi non ho potuto fare contenuti Ho viaggiato poco Ho stato male fisicamente Ancora tosse E per ricollegarmi Al discorso Luis Se tu Tu lo conosci un po' Il suo percorso Ti piace? L'hai seguito un po'? No Ti dico la verità Non lo conosco proprio come creator Ok L'unica cosa che ti posso dire Per analizzarti un minimo È che lui Come creator È un botto incostante Ok Ok È fare contenuti Per me Ineguagliabili a chiunque in Italia C'è anche una lettera giusta Che è fortissima Lui mi piace molto È il capo Ok È il capo Però il fatto che sia così costante Bravo in quello che fa Pazzo Incosciente Bravissimo Però bravo Però non me lo fa Per quello che è il mio gusto Non me lo fa piacere così tanto Dal punto di vista Artistico Ok Luis invece è uno che vive Qua mette un video ogni sei mesi Quando lo mette Ho capito Cioè tu La percezione che hai Dai contenuti che caricano È questa Sì ma Ma anche proprio da Quello che ho letto In generale Cioè per me l'artista Deve essere tormentato Cioè non so come spiegare L'artista è incostante Sì 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 Per forza Quindi È della giusta È un content creator La madonna Forse il migliore ad oggi in Italia Di content creator Ok Luis è un artista Ok Se io volessi scegliere qualcosa Preferirei fare l'artista E non il content creator Ok Anche se guadagno di meno Magari Anche se ovviamente Ci sono cose diverse Chi è il content creator Più forte In Italia Statisticamente sì Tu lo sai Io non lo so Chi dovrebbe essere Allora statisticamente I miei contro te Probabilmente Ah sicuramente I miei contro te Hanno fatturato Che non esiste È sicuro Non esiste Sì I miei contro te Sì penso siano i più forti Quelli che facciano i video Per i bambini Fanno i miliardi Cioè i miliardi No i milioni sì Irraggiungibili Allora i content creator Più forti in Italia Secondo me ad oggi sono Vabbè Aria della giusta sicuramente Non lo seguo Ma è fortissimo Ok Content creator È un artiste Ok Michele Molteni Fa dei numeri impressionanti Sì Il ragazzo che tipo Costruisce le navi spaziali In acqua In acqua Partendo da un grissino Sì Partendo da un Michele Molteni Cioè partendo da una fetta di prosciutto Lui ti costruisce una casa Prende tutto O non lo fa diventare un cavallo Lui praticamente si è ispirato Alli indiani Che secondo me Ah giusto Io guardavo Alle tre di notte Alle tre di notte Mangiando i cereali Lui si è ispirato L'articolo Sì Fortissimo Gli Akidale sono veramente forti E quel ragazzo che fa Gli Akidale Tech Sì Ecco lui è uno che ho seguito All'inizio alla fine Perché lui guardava i video Clash of Clans Ah è partito da gamer Nel 2012 Tipo video Che registrava col telefono In cui si sentiva la voce Senza la faccia Ad oggi viaggia Bello questo percorso No Incredibile I ragazzi Le persone Gli Akidale per me è il percorso più bello Della storia dei social Cioè un percorso incredibile Cioè parti da Clash of Clans E finisci a viaggiare il mondo Documentando aziende Ufficio a Milano Bellissimo L'or tre per me sono Gli Akidale Dale Questo è il potere dei social Sì Perché poi ti fa vedere La crescita di una persona Non del personaggio L'or tre Sono I più forti I tre Un po' le tre colonne magari Se invece ti devo dire Artisti Ecco E Malloro per esempio Che ti diciamo Parliamo di Quanti Kietro Non è un Quanti Kietro per me Malloro Ok È un artista Se ti piace lui Lui vedi di Casey Neistat No no So benissimo Ok So anche quanto l'ha ispirato No no ma Ok Ma allora me lo sono studiato Perché è forte Mi ha dato tanti belli spunti Di pensiero E lui però Secondo me non è un content creator Cioè non può Non può proprio essere Chiamato content creator È un artista Punto Fa periodi in cui Non ha Cioè Molto incostante Perché ti piace tanto Sta parola Artista? Ti piace tanto? Perché secondo me Siamo tutti artisti In un modo o nell'altro Dovremmo fare tutti gli artisti Quando vuoi fare l'artista Sei libero Capito? Intanto Punto Cioè Questa è la mia filosofia di vita Ti piace molto questo feeling di libertà? Voglio parlare di artisti Parlare di arte Cioè Ho capito È tutto arte Se ci pensi Cioè Questo podcast è una forma d'arte Incredibile Perché tu stai documentando Uno scambio di persone Che non si conoscono Ok? Che se ci pensi Appunto prima Con il discorso di essere animali sociali È una delle pratiche E delle prassi Anzi Più importanti della nostra vita Conoscere persone tutti i giorni È la cosa che mi piace di più Immagina chi lavora In un negozio Un commesso Sai quante storie Quante persone conosci al giorno Sì Quante storie racconta Nei piccoli Momenti di stallo Da una fase o dall'altra E te Con un podcast Te lo stai documentando Sì mi piace assai Infatti è una forma d'arte Io ho Pokédex personale Infatti è una forma d'arte Incredibile Capito? È bellissimo Sì E lì mi fermo e penso Immagina Chi ancora nel 2024 Scrive magari Siccome uno lavora nei social Scrive vai a lavorare Capito? Sì vabbè No nel senso Non lo sanno Non lo sanno Ma è un paradosso incredibile Se ci pensi Cioè è il lavoro più bello di tutti E soprattutto È un lavoro dove devi mettere Un impegno incredibile mentale Cioè io mi porto Il lavoro a casa tutti i giorni Capito? Anche Magari sono dei mesi In cui non guardo nemmeno Così tanto bene Però Io tutti i giorni Sono focus su quello Che è il mio obiettivo Su quello che è la mia passione Le tasche magari non sono piene L'anima sì Una cosa del genere Ma sì ma in generale Cioè è proprio È proprio un lavoro a 360 gradi La gente non si rende conto Anche quando facevamo le live Cioè Sembrava un live del cazzo Però Eravamo tutti i giorni A scriptare Ospite di qua Cosa di cià Cioè Per spizio Vedi poi le cose succedono per caso Ascoltavo La canzone di ultimo Pianeti E mi sono ritrovato tantissimo In quella che per me È stata la sua spiegazione di arte Che adesso è diventata anche la mia Quando lui dice È la fant Che poi cambia È soggettiva È la fantasia che trasforma In pianeti i sassi Per me l'arte È la fantasia Che trasforma In pianeti i sassi È molto quello Bello È quel qualcosa In più Magari Questo tu lo vedi come un microfono Per te non lo è Lo trasformi in qualcos'altro Che è quella È una forma d'arte Mi piace questo parallelismo Ah stupendo sicuramente Ah è l'ultimo Eh sì esatto Tu parli Parli molto d'arte Però ecco Per te quindi l'arte È la libertà Sì Di esprimersi E di creare Sì sì è tutto L'arte ti rende libero per me Il percorso che farai Adesso Diamo a dieci anni Come artista Cioè tu Dove Sentirai Che Sei arrivato Come artista Io Due anni fa Se pensavo che magari Potevo non chiedere i soldi Ai miei genitori E poter vivere da solo Potermi permettere Magari Io a breve dovrei sasservirmi Solo facendo video Su tiktok Per me non era il goal Di più Era dopo Ad oggi È una cosa scontata O meglio La parola scontata Non mi piace usarla Vorrei che non esistessi Nel senso check Andiamo avanti Però è una cosa che È così Cioè se ripenso Che era un goal Mi fa quasi strano Quindi è una domanda A cui faccio veramente Fatica a rispondere Dirti dove mi sentirei Arrivato Ok Cioè non ce l'hai Un effettivo Cioè la frase che dico a tutti Che non si arriva mai Nel mio caso Nella mia personalità È ancora di più Perché proprio per me È step by step Cioè io nell'ultimo anno Mi metto a pensare Tutti i cambiamenti Che ho fatto Tutte le cose Ok faccio questo Basta Faccio quest'altro Cioè io sono molto incostante Soprattutto lavoro molto a livelli Per me ogni gradino Ok raggiunto basta Non me lo godo neanche In senso positivo Ok 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 Non mi fermo lì A dire ok ho fatto questo Lo faccio Lo percorro Sono felice Quello dopo Alla fine perché ci troviamo Abbiamo tante cose di cui parlare Non mi hai raccontato la storia Di cosa? La più figa Ah la storia più figa Che hai vissuto Scusami No è vero No che scusami È che stiamo chiacchierando Ho divagato io La storia più figa di tutte? Che ad oggi racconteresti tipo Cioè il tuo migliore amico Che non vedi da 30 anni Ne hai 19 però non lo vedi da 30 Gli racconti Ah ma lo sai che io in questi 19 anni ho fatto Questo Ed è la cosa Che gli racconteresti per prima? Ora te lo hanno una risposta Un po' insolita Vai Allora Sarebbe veramente difficile Questo Questo esempio Mi hai fatto perché io Tutte le cose più fighe Che ho fatto Hai fatto tante cose Le ho fatte tutte Con il mio migliore amico Ok Tutti Bello perché condividi Io non mi ricordo Un momento Cioè Ho avuto dei momenti Belli intensi della mia vita magari Amori cose Storie belle Viaggi Però Tutti i momenti intensi Da quando ho una coscienza critica Quindi dai 16 Ad ora che non è 19 Gli ultimi tre anni sono tutti con il mio migliore amico Quelli proprio intensi 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 Poi beh Delle storie belle Cioè anche Due giorni fa Ci siamo imbucati al circoloco Ok 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 Se siamo arrivati a caso Alle 11 Stava per finire Siamo passati dietro Capitiamo un bodyguard E dice Oh dai Fran Facci passare Lui mi conosceva Mi fa Dai vieni Così capito Cioè Siamo andati al circoloco Il biglietto costava O backstage Tipo 150 Sta scherzando ovviamente Non si è imbucato Sta fingendo Ma non si è imbucato Lo hanno invitato Ah ok Prego No 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 Lo dico io Che sei stato invitato Ah ok va bene Lo dico io Sono stato invitato al circoloco Bravissimo E Ovviamente Se mi chiedi storie fighe Cioè Doviene tipo filtrarle È una domanda Su come devo preparare Perché comunque Tu ti comunque Poi ho fatto cazzate Certo La cazzata più grossa Che hai fatto Ah sicuramente I tetti di Parigi Eh Lì vado proprio sgravato Cioè sono saliti Da dei cantieri È stato un po' Un po' wild Come situazione Ha avuto il permesso anche lì Non vi preoccupate Eh capito Cioè non ti mostro Contare le cose Non puoi chiedere Non puoi farmi questa domanda No puoi dire Ho avuto il permesso Se mi do brutti esempi In realtà io non vorrei Non vorrei manco Farla vedere Questa parte nei social Infatti La faccio vedere In modo molto estetico Non la faccio vedere A modi esempi Certo Se vado a fare una vacanza La racconto Ma se salgo su un tetto Non racconto come l'ho fatto Non fatelo Non voglio che le persone Che mi seguono Lo facciano A che stai 50 su 100 40 e passa su 100 43 Cose da fare prima di morire Sì Quanto stai? 43 43 Sì Cose da fare prima di morire Perché hai fatto sta Bucket list? Allora questa bucket list Che è proprio il termine Su come è stato presentato Te lo dico sincero Non è un'idea mia È un'idea di una persona Con cui vivevo Lì mentre faccio il periodo Di testosterone E una persona che stimo un sacco Mi ha Creativamente Forse una delle persone Migliore che conosco Mi dice Guarda c'era questa idea Che doveva fare questa persona Ma Bisogna dovesti farla Ok? Ci ho pensato un po' Ho detto Minchia Potrebbe essere la svolta Perché in quel periodo Avevo veramente Poco tempo libero Per fare contenuti Perché con le live Eravamo molto impegnati Ci tenevamo tanto Avevamo preso una casa a Milano Per farle Eravamo sempre in giro A fare pubblici relazioni E quindi mi ha un po' salvato Quel format E poi mi ha dato Una direzione Adesso io Anche se smetto di fare Tutti i contenuti esterni So che se continuo A mandare avanti La mia bucket list Ho sempre qualcosa Da raccontare Sì ma non parlando Soltanto della questione Meramente Cioè proprio Di la creazione Del contenuto Ok Proprio La numero uno Nella tua bucket list Dele cose da fare Prima di morire Quale sarebbe Oltre ad andare Nello spazio Sulla luna Perché penso Che quella è So tutti Ce l'abbiamo tutti Quel desiderio No? Ma non tanto Sincero no Qual è la numero uno La numero uno In questo momento Ma è difficile Raffigurare un'esperienza Cioè ad oggi Io sono Ho messo la croce Sul più importante Tipo sul primo Nel momento in cui Mi sveglio Con il mio migliore amico Con i miei amici Che lavorano con me In una casa È tutto Normale Siamo tutti tranquilli Siamo tutti sereni Stiamo vivendo Ok È una risposta un po' difficile Però è la No no Ho capito il sentimento È la cosa più sincera E più digetto Che posso vedermi in mente Ok Non c'è un'esperienza in particolare Perché alla fine Mi sono reso conto In questi mesi In cui ho fatto tantissime esperienze Di quanto è relativo Quanto è un'esperienza importante Capito? Cioè Magari sono stato a Parigi Sui tetti Incredibile Bellissimo Ora sono stato a Napoli due giorni Probabilmente mi sono divertito di più Cioè non so come spiegarti È Ogni cosa è relativa In base a come la vivi E come l'affronti Come sei preso Come ti svegli Questo sentimento è un po' come Voler rimanere sempre Bambini no? Sì Cioè È proprio La relatività dei momenti Cioè Quanto può cambiare Quindi Ti potrei rispondere anche Voglio buttarmi da un paracadute Certo Bellissimo Però magari il giorno Che mi butterò da un paracadute Mi sveglio Che sono preso da un male Lo faccio È figo È figo magari lo faccio Però non mi diverto come quando Mi tuffo Faccio una cosa normalissima Però quel giorno sono felicissimo Ok ho capito Ho capito No niente Devo proprio il sentimento Il desiderio di Stare con i miei migliori amici In una casa E non preoccuparci delle bollette Non preoccuparci di cosa mangiare Sì perché stiamo bene Ci sono soldi Le nostre famiglie stanno bene Sembra il desiderio Sai che hai Quando sei piccolo Voglio la Come si chiamava La fortezza Sai Che sto con i miei amici Giro Corro Faccio Io sono così Io sono molto visionario Molto astratto Che è una cosa negativissima Ok Però è quello che mi fa andare avanti Questa Cosa di essere astratto Di svegliarmi Di sognare Essere un po' visionario Un po' esagerato Vabbè sognatore ci sta Come termine Sì sognatore Tantissimo sognatore Troppo È una cosa veramente negativa Nel mondo del business Lo sovo dirlo Sì Però a me fa stare bene Se ti devo dire La mia cento cose da fare Prima di morire La centesima Svegliarmi Stare bene Stiamo tutti bene Capito Tipo la fine del film La fine del film Credits roll Cioè io sono sicuro Che un giorno Farò Cento cose da fare Inizierò un video Cento cose da fare Prima di morire Numero cento Vivere Ok È finito Il capitolo Stiamo bene Ci svegliamo Tutti i giorni Facciamo colazione Ci guardiamo gli occhi Sorridiamo Le cose vanno bene Facciamo ciò che ci piace Le nostre famiglie stanno bene Stiamo bene Fine Quindi Oddio forse la risposta È stare bene In quel senso Cento cose da fare Numero cento Beh la finiamo Così sa chiacchiera Molto positiva Tommaso Mi piace tanto Mi piace tanto Ecco Il podcast mi piace Perché per molti ragazzi Come lo è stato per me Potrebbe essere Anche un modo Di ispirazione Di ispirarsi Nel racconto di una persona Lo è stato Per me In molte occasioni Con alcuni podcast Che ascolto E anche per questo Mi piace condividere Ecco Vedi Condividere Quello che piace a te La storia pure di qualcun altro E mi piace Ecco Mi dà Buone Vibes Questa tua storia Esatto Vibemakers Questa tua storia Ti senti un vibe maker Ora sì Adesso sì Dove aver parlato con te Dove aver parlato con me Questa cosa Mi succede in continuazione Ci conosco persone Presa bene Perché te sei presa bene Si sente Dalle vibes Da lei Proprio dal magnetismo Che c'è E puntualmente Poi io finisco In conversazione dicendo Ti senti un vibe maker Sì Cioè io sono in giro A colonizzare Per me è come È il mio Come si dice La mia missione Cult Come si dice Tipo culto Sei tuo Sì Tipo una religione Esatto Vai e diffondi Sì sì Promuovi Vibrazioni positive Basta È quello che serve A questa generazione Secondo me Grazie per essere passato L'espresso pot Adesso da lì